perché ha avuto un pensiero così per tutte le donne, visto che sono sotto le feste. L'altra di tre che ha ottenuto grandi risultati nelle gran fonte. Un'altra donna che si sente sempre parlando. L'altra donna che ha partecipato alla riunione del CSI, la nostra sindacalista Francesca Tanghetti. Quante gare hai fatto? Anche lei, Irina, ha partecipato a numerose gare in circuito. Sì, bravi! Sì, bravi! Desente dei nostri allenamenti il sabato e la domenica. Come faccio? Io te li faccio. Grazie, salve. Se ho fatto perdere una treca che andava forte, però ci ha vinto lei anche una maglia nazionale prima di categoria. la Veronica Veronica girati mettiti in mezzo a due uomini poi ve lo so poi ci terrei il nostro sponsor Vizzoli Enrico il nostro sponsor è appassionato di mini grande bollicina a Franciacorta per un grandissimo campione questo è un riconoscimento per Gilberto che è venuto alla nostra festa a Franciaccia a Franciaccia a Franciaccia a Franciaccia